Musica Amici sportivi ben ritrovati, a tutti voi un cordiale saluto, apriamo con il calcio, dunque cresce l'attesa per il debutto stagionale, almeno al Porta Elisa della Lucchese di Francesco Baldini, che sabato pomeriggio ore 17 ospiterà la Lupa Roma. Allenamento dell'antivigile L'Acquedotto per la Lucchese, chiamata sabato pomeriggio al debutto stagionale tra le Muramiche contro la Lupa Roma. La scopola di Ferrara è ormai alle spalle, l'obiettivo del Rosso Nere è di guardare avanti. Certo che Baldini si è reso conto di quanto la squadra sia ancora a ritardo, rispetto forse alle sue aspettative, anche se ad onor del vero al Paolo Mazza c'erano in campo 7 undicesimi nuovi rispetto allo scorso anno. Chiaro che il 41enne tecnico di massa sta valutando le soluzioni migliori per proporre una Lucchese reattiva, solida e combattiva, in grado di portare a casa tre punti contro un avversario comunque da non sottovalutare. In tale ottica l'amichevole giocata mercoledì a Rignano sul campo della Rignanese, formazione di eccellenza, in pratica a casa del presidente Baccia ha fornito buone indicazioni. Mori ha dimostrato di essere quasi pronto e quindi in grado di entrare nel ruolo di centrale difensivo al fianco di Marcos e Specie. Calcagni dovrebbe trovare una maglia da titolare a centrocampo, visto che dal naufragio di Ferrara è stato tre pochi a rimanere a galla. Altra possibile variante è l'impiego di Melli al posto dello squalificato Benvenga e l'utilizzo di Fanucchi da trequartista alle spalle di Pozzebon e Terrani. Insomma dal 4-3-3 al 4-3-1-2, Lucchese-Lupa-Roma, prima gara interna della stagione per la Lucchese che torna al Porta Elisa per una gara ufficiale dopo quattro mesi abbondanti. Era il 2 maggio scorso e una Lucchese ormai in clima vacanziero e poco concentrata, svagata, fu travolta 3-0 dalla Reggiana. Gli Emiliani si portarono in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un rigore di Bruccini. Nella ripresa Lucchese in 10 per l'espulsione di Pagano, poi fu cacciata anche forte e Reggiana che dilagò nel punteggio con De Giose e Pettovic. Fu davvero un brutto congedo. L'auspicio è che sabato pomeriggio si ricominci con ben altro piglio, ma soprattutto con un risultato positivo, possibilmente pieno. Calcio di lettanti, scendiamo in eccellenza col paccio del Real Forte Querceta che ha ingaggiato Lorenzo Remedi, 24 anni, da Livorno. Remedi che sembrava dovesse approdare al Messina, da tempo si stava allenando con i Neroazzurri, dove gioca il fratello Minore Luca, classe 97. La firma del contratto da parte del calciatore Via Reggino e per la società presiduta da Alessandro Mussi si tratta indubbiamente di un bel colpo. A pochi giorni dall'avvio del campionato di eccellenza, domenica il Real Forte Querceta ospiterà il Necchi Balloni, l'atletico Piombino. Vi proponiamo adesso anche, con l'ausilio della grafica, quello che è il Girone Juniors Nazionali della Serie D, Girone G, che scatterà il 19 settembre e si concluderà il 16 aprile questo campionato. Nel dettaglio, oltre a Ghiviborghe e Via Reggio, che sono le nostre due rappresentanti, ci sono Montemurlo, Massese, Ponsacco, Montecatini, Valdinievole, Argentina, Fezzanese, Lavagnese, Ligornar, Pallo Bogliasco, Sestri, Levante e Vado, partecipano a questo campionato i giocatori nati dal 1 gennaio 1997 in poi, oltre a tre fuori quota, di cui 2,96 ed uno che non ha limiti di età. Il basket al Palatagliate e la Libertas Lucchia ha giocato il secondo match di Coppa Toscana, dovremo vedere anche, avere l'ausilio di qualche foto. I biancorossi di coach Maurizio Romani hanno battuto 57 a 52 il Cuspisa, sempre avanti nel punteggio, 36 a 21 all'intervallo lungo. La Libertas si è un po' distratta nel finale, consentendo agli ospiti di tornare in partita, ma i canestri di Angelini e Genovali hanno risolto il match, quindi la Libertas rimane a punteggio pieno nel girone di Coppa, prossimo impegno domenica sera alle 21 sul campo del Bama Alto Pascio. Ancora per il basket, con l'inizio della nuova stagione riprendono gli appuntamenti con le selezioni regionali per i ragazzi e delle giovanili del centro mini basket Lucca. Questo fine settimana, da venerdì a domenica, Gianmarco Drocher sarà infatti con la rappresentativa toscana Cagliari per partecipare alla Sardinia Cup, manifestazione riservata ai ragazzi nati nel 2001. Assieme a Gianmarco ci saranno anche, ad arricchire la compagine lucchese, Massimo Chiarello, responsabile delle giovanili e coce della selezione, e il direttore sportivo Umberto Vangelissi, che sarà il dirigente e accompagnatore della squadra durante la manifestazione. Aggiungo ancora, sempre a proposito della prima squadra della Genova Lucca, è che venerdì sera alle 19.45 la squadra di coach Beppe Piazza giocherà la semifinale del trofeo Borelli a Pescia. Un trofeo che in questo caso vale anche come Coppa Toscana. La squadra lucchese sarà impegnata contro la labronica basket. Se poi vincerà, giocherà sabato sera alla finale per il primo posto. C'è un solo posto a disposizione per il turno successivo, sempre a proposito del centro mini basket, sempre per questo fine settimana, organizzata la serata del Basket Day presso lo spazio sagra di Paganico. L'atletica, tutto pronto per i campionati toscani assoluti di 10 km su strada, che si svolgeranno sabato a Tre Castagni in provincia di Catania. Il gruppo polistico Parco Alpiapuane, guidato da Graziano Poli, proverà a bissare il successo di un anno fa a Disernia nella classifica squadra. Vediamo appunto il gruppo bianco-verde che si schiererà, possiamo dire, con questa formazione. William Chibor, vincitore lo scorso anno in Molise, Stefano Scaini, Andrea Pranno, Danilo Ruggero, Gilio Iannone, Giorgio Scialabba e le due bandiere del gruppo, ovvero Daniele Del Niste e Marco Baldini. In campo femminile sarà il via Paola Lazzini. Siamo al ciclismo, fine settimana l'avrete intuito piuttosto intenso e ricco, perché venerdì sera con la cronometro in notturna di Campi Bisenzio scatta anche il ventesimo giro della Toscana internazionale femminile di ciclismo. È tutto pronto in casa della Michela Fanini Record Rocks per il Giro della Toscana internazionale femminile 2015. Venerdì sera, con la spettacolare cronometro in notturna per le strade del centro di Campi Bisenzio, scatterà l'edizione numero 20, poco più di due chilometri, per assegnare la prima maglia rosa. Al via ben 18 squadre, con oltre 140 atleti in rappresentanza di 25 nazioni. In totale saranno 232 chilometri da percorrere per un Toscana che, dopo il prologo fiorentino, si sposterà in Lucchesia sulle strade care all'indimenticabile Michela, alla quale è dedicata l'intera manifestazione. Sabato la Segromigno Piano, Porcari-Segromigno Piano, quattro volte lo strappo della Selvette, a produrre una prima scrematura del gruppo. E poi domenica la decisiva Lucca Capannori, e qui sarà probabilmente il durissimo Valgiana, ad una manciata di chilometri dalla fine, a stabilire la più forte del Toscana. Indicare una favorita non è semplice, anche se la polacca Malgorzata-Jasinska seconda un anno fa per un solo secondo, e l'olandese Anne-Marie Van Vleuten si fanno preferire. Ma anche Patron Brunello si attende e pretende una prova convincente dalle sue ragazze. La francese Edwige Peter sarà il capitano della squadra e dopo l'ottimo secondo posto al Trofei d'Or potrebbe essere il protagonista. Ancora poche ore di attesa e vedremo chi succederà nel prestigioso Albo d'Oro all'americana Shelly Holtz, che vinse il Toscana nel 2014. I motori Rudi Michelini sulle strade del Ciocco, il pilota lucchese, fresco vincitore dell'Open Rally Toscano e terzo nella classifica finale del campionato IRC Cup, si esibirà sabato in una giornata in sentine di corsa, facendo provare dal vivo l'emozione di stare al suo fianco a bordo della Citroën DS3 R5, vettura che lo ha accompagnato nei successi stagionali. L'appuntamento è al Ciocco sabato dalle 10 alle 16. Poi nei giorni successivi vi proporremo anche un servizio su questa giornata di Rudi al Ciocco. Chiudiamo con la mountain bike. Sabato e domenica l'insegna della mountain bike a Camaiore. Sabato si disputa il sesto trofeo mountain bike La Rocca, riservata alle categorie esordienti giovanissimi allievi, su un percorso ricavato nella zona del centro sportivo Tori. Domenica l'appuntamento invece sarà con la quinta edizione della prestigiosa Gran Fondo Giro Conca, manifestazione inserita nel circuito Colline Toscana ritrova lo stadio comunale di Camaiore alle 9.30, due percorsi previsti di 30 e 53 chilometri. Ed è tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva del TG Noi. Una breve pausa e poi la terza ed ultima parte del nostro telegiornale. Grazie a tutti.